Sono con Francesco Mazzaferri e Jessica, patata nana. Allora, un prodotto originale, non la solita patatina che siamo abituati a mangiare. No, buongiorno a tutti, caro, tanto grazie di questo gentile invito. Noi produciamo patatine chips artigianali e per noi il sacchetto è un mero strumento di trasporto. Abbiamo racchiuso un'emozione all'interno di un sacchetto. Sono patate, olissimi girasole e pochissimo sale. Cotte a bassissima temperatura, 155 gradi. Quindi il nostro prodotto è praticamente artigianale, 100% naturale, gluten free. Jessica prima ci ha fatto assaggiare proprio la patata snana. Non solo originale, ma anche condita in maniera un po' particolare. Sì, ci piace divertirci con gli abbinamenti. In questo caso abbiamo portato lime e pepe, ma in realtà i nostri clienti usano anche aceto balsamico, riduzione di champagne, tantissime varianti. Un modo un po' originale di mangiare la patata anche quando si fa l'aperitivo. Sì, è un modo per, appunto come diceva Jessica, di rompere tutti gli schemi. Le possiamo anche rigenerare in forno o attraverso le nostre lampade. Quindi ritorno come appena fritte. Quindi 20 secondi, 180 gradi in forno. E poi ci possiamo mettere sopra le cose che ci piacciono. Quindi giocarci un po' con il prodotto. Quindi diciamo che è un'evoluzione di quello che è il mero immaginario di quello che troviamo nel mercato. Quindi abbiniamo qualità su qualità. Bellissimo, vi ringrazio. Grazie a te Francesco e grazie a Jessica. Grazie, grazie a voi.